Non lasceremo nulla di intentato finché non scopriremo chi è stato a commettere questa infamia. Sono state queste le parole del questore Claudio Cracovia nel giorno dell'omicidio di Luana Mariani, l'anziana morta per soffocamento durante il tentativo di rapina da parte di tre rumeni di origine rom. E così è stato. Le indagini del commissariato di Forte dei Marmi e della squadra mobile di Lucca sono iniziate da minimi indizi e vaghe testimonianze, ma hanno subito imboccato la strada giusta, come ha ribadito in conferenza stampa il sostituto procuratore Aldo Ingangi. Grazie al lavoro di intelligence e di minuzioso controllo del territorio effettuato quotidianamente dagli uomini della polizia. Fondamentale una volta acquisiti i sufficienti elementi probatori è stata la sinergia con la direzione della cooperazione internazionale di polizia e con gli uomini del servizio centrale operativo, nonché con la polizia romena che ha affiancato in ogni fase le operazioni degli uomini della questura lucchese. Il grande lavoro e la grande passione profusa in questo lavoro sul territorio da parte della polizia di Lucca è il coordinamento del servizio centrale operativo del dipartimento della polizia di Stato e la perfetta sinergia attuata anche a livello di collaborazione internazionale dal servizio cooperazione internazionale e, ultima ma non meno importante, la grandissima collaborazione della polizia rumena, delle autorità di polizia rumene. Meno di un mese quindi per assicurare gli autori dell'omicidio alla giustizia. Una risposta, come affermato dal capo della squadra mobile Virgilio Russo, che non restituirà la signora Luana ai suoi cari, ma che in qualche modo renderà la loro giustizia. Grazie.